Paglia che è stata deviata in calcio d'angolo, ancora Pizzarro, la bandierina che divide la Nord, la federe, palla di rigore dei rossi per Rotta, arriva Kwan, arriva Mettep, c'è anche Mucinic, prossima parte di Pizzarro, Mettep, ritorno! Paglia che è stata deviata in calcio d'angolo, ancora Pizzarro, Mettep, ritorno! Paglia che è stata deviata in calcio, ora Pizzarro, ora Pizzarro, ora Pizzarro, ora Pizzarro in calcio, ora Pizzarro il 36esimo avuto! Gran gollo, gran gollo, gran gollo! Gran gollo di Filippo! Ebbiamo qui!